Buongiorno ragazzi, quest'oggi parliamo di quanto è importante quel che studiamo, ma prima di farlo mi occorre spiegare di quanto importante sia il solo studiare. Si impara comunque anche se non si vuole, che l'acqua è bagnata e che caldo fa il sole, qualcuno è convinto che sia sufficiente, però poveretto costui non sa niente. Migliaia di anni e di grandi sapienti dovrebbero renderci più intelligenti, non dico perfetti e nemmeno utopisti, ma almeno non guerrafondai o razzisti. Col sangue e sudore dei tempi passati, dei libri da leggere ne hanno stampati, e solo studiandoli a fondo e per bene si impara che il mondo è tutto un insieme. La storia è sorella della geografia, che è stretta parente dell'economia, cugina di chimica ed astronomia, nipoti di logica e filosofia. I miti e le favole sono gemelli, e la matematica ha mille fratelli, e solo chi studia può argomentare su come e su quanto si debba studiare. Studiare per essere degni di stare, a ridere e correre e bere e mangiare, studiare perché questa è l'unica cura, per vincere sempre contro ogni paura. Perché si ha paura se non si conosce, e senza il sapere si nutrono angosce. Studiare perché si comprende così, che tutta la vita è una scuola in 3D. Studiate perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza.